Nuovo blizzo dei finanziari del gruppo di Olbia nei locali della Movida a Galurese. I militari, supportati dai funzionari del rispetto al dato del lavoro di Sassari, hanno passato al settaccio i locali notturni della Costa Smeralda. In particolare, le ispezioni hanno riguardato due nightclub a Olbia e una ad Arzachena. Nel corso dei controlli dei finanzieri sono stati identificati 25 dipendenti, 20 dei quali tutte donne sono risultati totalmente in nero, privi di copertura assicurativa e regolare assunzione. Per uno degli esercizi di Olbia, visto che la quota dei lavoratori in nero sul totale dei dipendenti superava la percentuale di legge, è scattata anche la sospensione dell'attività. Ma il lavoro della Guardia di Finanza non si è limitato al controllo della regolarità delle assunzioni delle dipendenti. Le fiamme gialle ora dovranno ricostruire il rapporto di lavoro tra i dipendenti in nero e gli imprenditori per procedere poi al recupero della contribuzione previdenziale ed assicurativa evasa. Sarà rispetto al dato del lavoro di Sassari a infliggere le sanzioni previste dalla legge. Si tratta della seconda operazione compiuta da finanziere il gruppo di Olbia nel giro di due settimane. I primi controlli erano scattati attorno al 12 dicembre e anche in quella occasione l'esito era stato clamoroso. In quattro nightclub della città galurese erano state identificate 40 lavoratrici, ben 31 erano risultati in nero. Due locali notturni erano stati chiusi perché avvano il 100% del personale e irregolare.